il partito secondo l'uomo noi abbiamo fatto arrivare fisicamente sulla costa, sulla università e le persone che compongono una partita sullo staccio fisico e per il muscolio abbiamo detto prima sappiamo che lo seguiamo la seconda Sì, ma la che vanno è che è già un buon trallaggio, è arrivato a terra quando c'è un punto di vittoria, di contattore, forse loro di San Lombardi, no, speriamo che insieme che le off' sono in partita delle off' che è veramente storia, cioè come non è venuto qua, perché è quello di San Lombardi, quindi direi che l'ho detto, l'unico che ho commetto è che siamo, siamo arrivati a questa parte. Così, foro lì, il capo è sempre segnato a questo momento, ma che è uscito? Sì, l'anno che mi mette di questo non ci tirava, direi a portare a termine di questo momento della gamba, però credo che vuoi sapere che per difendere c'è la gamba, però direi che stasera, come si parla, è anche la testa, quello che si attaccherà è un'attività, ma è un'attività, soprattutto in momenti più difficili, sono stati abbastanza lucili da riuscire comunque a riuscire a fare, La mia vita, come si attacchina, è un'attività, ma è un'attività, ma è un'attività, è un'attività, ma è un'attività, ma è un'attività, è un'attività i narcotrassi, quindi è un'attività. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.